Il giorno della memoria, istituito a fine di ricordare lo sterminio del popolo ebraico, le leggi di parziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la arrestazione, la pigionia, la morte, nonché coloro che anche in campi e schienamenti universi si sono opporti al progetto di sterminio. Anche Arezzo celebra il giorno della memoria, istituito nel 2000 per ricordare uno dei periodi più tragici della storia italiana e dell'Europa, perché simili orrori non accadano mai più. L'anno scorso avevamo un altro conflitto che è ancora in corso, quello tra Russia e Ucraina. Quest'anno, nel 2023, si è aggiunto il conflitto in Medio Oriente. È un momento molto grave che ci induce alla riflessione. Nel corso della cerimonia in prefettura, la consegna delle medaglie d'onore concesse dal Presidente della Repubblica. È un momento in cui vanno ricordate le vittime, vanno anche ricordati tutti coloro che hanno fatto la loro parte per poter dare una mano e per poter salvare altre persone. E chi ha sofferto in prima persona l'internamento, come oggi le due medaglie d'onore alla memoria, ai figli di due deportati della nostra provincia. Medaglie d'onore alla memoria consegnate ai familiari di Adorno Focardi e Ferruccio Marcuccini. Mio padre ha avuto molte peripezie durante quel periodo, perché è evaso due volte dal campo di concentramento, poi ripresso dopo quattro mesi con ferimento da parte dei soldati tedeschi. Poi è stato internato in un campo di punizione, quindi liberato dagli americani dopo due mesi, ridotto al peso di 45 kg, insomma, quindi era ormai agli estremi. E quindi è un ricordo anche per mio nipote che era presente qui. Sarà un episodio che ricorderà per tutta la vita. Sono molto emozionato perché in un periodo come questo penso che la storia debba insegnare molte cose e chi non le capisce, come dire, andrà incontro a sciagule del passato. Le celebrazioni sono proseguite al cimitero degli ebrei, al Parco Ducci, con la deposizione di una corona dall'oro. C'è un detto ebraico che dice che quando ci sarà pace a Gerusalemme, ci sarà pace su tutta la terra. Ecco, credo che sia questa. Oggi la preghiera è l'intenzione che vogliamo, nel giorno della memoria, uniti al popolo ebraico, vivere tutti insieme. Quando ci sarà pace a Gerusalemme, e quanto è vera questa parola oggi, ci sarà pace su tutta la terra. Grazie a tutti.